Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. La borraccia killer, la storia incredibile di Karin. Poteva morire, e tutto, a causa di una borraccia. Nessuno lo sa, ma c'è qualcosa che compone le borracce in metallo che potrebbe causarti gravi sintomi ed è quello che è capitato a questa ragazza. Ora segui il video per capire meglio cos'è accaduto. Quella che doveva essere una semplice scelta ecologica si è trasformata in un incubo per Karin Wilson. La sua nuova borraccia in metallo, simbolo di un impegno per l'ambiente e uno stile di vita sano, si è rivelata una vera e propria bomba a orologeria. Per mesi, la donna ha combattuto contro sintomi misteriosi che minacciavano di consumarla. Stanchezza cronica, dolori muscolari lancinanti, difficoltà respiratorie. Medici e farmaci sembravano inutili di fronte a una malattia che sfidava ogni diagnosi. Come ha fatto a scoprire che tutto dipendeva dalla borraccia? Mentre la sua salute peggiorava, Karin ha iniziato a indagare. Qualcosa, nella sua routine quotidiana, era cambiato. E la risposta si nascondeva in un oggetto in apparenza innocuo, la sua borraccia. Online ha scoperto che alcuni modelli di termosi in metallo potevano rilasciare sostanze tossiche come piombo e cadmio, in grado di causare una vasta gamma di problemi di salute. Un collegamento inquietante, il sospetto si è trasformato in certezza quando, dopo aver eliminato la borraccia dalla sua vita, i sintomi hanno iniziato a diminuire drasticamente. Per confermare la sua teoria, Karin ha condotto un esperimento. Ha riutilizzato la bottiglia. Il giorno successivo, si è risvegliata di nuovo ammalata. Era la prova definitiva. Ma la sua storia non termina qui. Due anni dopo, acquistando nuove padelle da cucina, Karin ha notato nuovamente gli stessi sintomi. Questa volta, un'altra ricerca ha rivelato che anche quelle pentole contenevano piombo e cadmio. Un problema più diffuso di quanto si pensi. La storia di Karin ha suscitato un enorme interesse sui social media, con molte persone che hanno condiviso esperienze simili. Sembra che il problema delle borracce contaminate sia più diffuso di quanto si pensi. Ma perché questi oggetti, apparentemente innocui, possono nascondere un pericolo così grave? Il rischio dei metalli pesanti. Il piombo e il cadmio sono metalli pesanti altamente tossici, anche a basse concentrazioni. Possono accumularsi nell'organismo nel tempo, danneggiando reni, fegato, sistema nervoso e sistema immunitario. L'esposizione prolungata a questi metalli è stata collegata a una vasta gamma di malattie, tra cui il cancro. Come proteggersi? La storia di Karin è un monito per tutti noi. Prima di acquistare una borraccia in metallo, è fondamentale informarsi sulla sua composizione e scegliere prodotti certificati, realizzati con materiali di alta qualità. Inoltre, è importante pulire regolarmente le borracce e sostituirle quando presentano segni di usura. Un appello alla consapevolezza. La vicenda di Karin ci ricorda l'importanza di essere consumatori consapevoli e di prestare attenzione alla qualità dei prodotti che utilizziamo ogni giorno. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella.